Uno sguardo all'intelligenza artificiale e ai processi di innovazione che sono il sale che dà sapore alla nuova edizione di aziende Top 500 Piacenta, la rivista fresca di stampa in uscita con il quotidiano Libertà, che espone i risultati di 500 imprese primarie piacentine, banche escluse, che danno lavoro a quasi 40.000 persone, assommando un fatturato di 17 miliardi e utili per 700 milioni. Sono così fotografati i sei settori dominanti, meccanica, logistica, agroalimentare, chimica, edilizia e terziario, con i ricavi, patrimoni netti, i dipendenti, gli utili o perdite d'esercizio di ciascuna realtà considerata. Il report è frutto del lavoro di Confindustria Piacenza, PVC, Credit Agricole, Università Cattolica e Gruppo Libertà. È emerso una fotografia sicuramente incoraggiante e positiva. I dati del 2022 analizzati confermano un tessuto socio-economico resiliente, solido, e anche i dati del 2023, ancora non definitivi però danno questa stessa fotografia. Quali sono le principali urgenze del tessuto industriale e anche negli altri settori? La prima cosa che mi viene in mente è l'abbassamento dei tassi di interesse, che stanno comunque anche per la loro parte andare a limitare gli investimenti. Dall'altro lato bisogna continuare a favorire le aggregazioni perché attualmente le dimensioni aziendali sono troppo limitate rispetto a quelle che sono i competitor internazionali. Le posizioni primarie vanno a Gas Sales, che svetta con ricavi di 1 miliardo e 411 milioni, e le ottime posizioni di colla, che si mantiene al secondo posto, di Valcolatte, Telema, ma pure di tante altre, un fattore da considerare è il forte ricambio se paragoniamo i bilanci del 2018-2019. Si registrano nuovi ingressi che si uniscono a leader storici.